L'Italiano Corretto è un'iniziativa organizzata dal 2016 da STL Formazione di Sabrina Tursi, una realtà pisana che ha una lunga tradizione nell'organizzazione di corsi di formazione ed eventi tematici rivolti a traduttori e interpreti, e da doppio verso il blog gestito dalle traduttrici editoriali Chiara Rizzo e Barbara Ronca, dedicato a traduzione, vita da freelance e tematiche legate all'area editoriale in genere. Si tratta di una due giorni di laboratori e incontri dedicati all'evoluzione della lingua italiana e alle opportunità che questa evoluzione offre a tutti coloro che lavorano con le parole, traduttori, copywriter, blogger, scrittori, giornalisti, ed è quindi un evento che è sia un momento di approfondimento e riflessione, ma anche con un approccio pratico da mani in pasta, quindi rivolto sia a semplici, curiosi, appassionati, chiacchi della lingua ha fatto uno strumento di lavoro. In qualsiasi attività professionale è imprescindibile conoscere fino in fondo e dominare in tutti i suoi aspetti il proprio strumento di lavoro. L'italiano è uno strumento di lavoro per traduttori, giornalisti, scrittori, copywriter, blogger e per tutti coloro che lavorano nel settore della comunicazione, che oggi ha una diffusione pervasiva e capillare e che più di altri si trovano a correre un rischio spaventoso, quello di cadere nell'inganno dell'ipercorrettismo a tutti i costi. Per sfuggire a questo pericolo, in alcuni casi l'unica soluzione è quella di non restare ancorati allo strenuo rispetto della norma fino a se stessa, ma avere il coraggio di fare proprio e dominare e utilizzare come strumento di lavoro le mille direzioni in cui la nostra lingua oggi decolla, per farle spiccare il volo. Come sta cambiando oggi l'italiano? Alcune tendenze sono ormai evidenti, viviamo in un contesto di globalizzazione, con un continuo mutuo interscambio tra le varie culture, dominato dall'utilizzo pervasivo dei social network, da una fortissima incidenza dei forestirismi, del gergo giovanili e dell'immaginario delle serie tv, tutte tendenze messe in luce e contestualizzate in quasi ogni evento o intervento o ricerca che tratti dello stato attuale della lingua italiana. L'italiano oggi è un abisso fra da una parte il mondo del pressapochismo e dall'altra l'universo della precisione e quindi l'italiano come dovrebbe essere, secondo i canoni stabiliti, fissati e rispettati. Il ponte che collega queste due sponde è un ponte traballante perché non è scontato trovare l'equilibrio giusto, aderire alle regole in maniera esemplare e allo stesso tempo rendere una lingua viva, reale, evitare strafalcioni da un lato e atrofizzazioni dall'altro, rendersi conto che l'italiano, come ogni lingua viva, non è un qualcosa da tenere sotto vetro in un museo, ma un qualcosa da sfruttare nel suo essere materia pulsante, fonte di molti casi di innovazione e creatività. Da qui l'idea di italiano corretto che noi di STL e doppio verso abbiamo inteso proprio come un osservatorio, un'occasione per riflettere insieme con obiettività e rigore professionale sulle sfide e le possibilità presentate dall'italiano che cambia, un modo per stare ben saldi su quel ponte di cui si diceva prima. Italiano corretto nel senso anche di modificato perché oggi l'italiano corretto, l'italiano giusto non è più quello più aderente alla norma, ma piuttosto quello che sa adattarsi ai diversi contesti. È corretto anche nel senso di eticamente responsabile, in quanto strumento di interazione sociale e convivenza, perché in linea con i presupposti di First Saturday come movimento culturale globale cui STL e italiano corretto hanno aderito, la cultura è oggi più che mai motore fondante del nostro futuro. La terza edizione di Italiano corretto si terrà a Pisa venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018 con una formula innovativa e rivoluzionata, due percorsi laboratoriali in cui i partecipanti possano lavorare concretamente ricevendo non solo un'infarinatura teorica sugli argomenti trattati, quanto piuttosto l'opportunità di mettersi alla prova in una sorta di bottega con esempi ed esercizi pratici. Trovate Italiano Corretto su internet all'indirizzo www.italianocorretto.it, su Facebook con una pagina e un gruppo dedicato e su Instagram. A breve saranno disponibili informazioni più dettagliate sul programma e sulle modalità di iscrizione all'edizione 2018. Grazie e a presto!